Prima di tutto benvenuto a Rieca, come ti trovi, come la tua prima impressione e come mai hai deciso di scegliere il nostro club come la tua prossima destinazione? Ciao grazie, mi trovo, sono venuto qua, la mia prima impressione è stata buona perché ho visto una bella città, ho conosciuto persone che comunque mi sembrano tutte persone per bene, qui c'è tanta voglia, c'è tanta ambizione, quindi le prime impressioni sono state tutte positive. Sei qua da qualche giorno, sei riuscito a dare un occhio alla città, ai dintorni e come è la tua prima impressione riguardo la squadra, riguardo i tuoi nuovi compagni di squadra? Sì, oggi è stato il mio primo giorno di allenamento e mi sembra una buona impressione, si lavora bene, c'è tutto per lavorare, ho girato un po' la città perché sono stato qui da 4-5 giorni e come ho detto mi sembra una città bellissima e mi sto trovando già abbastanza bene. Il tuo ruolo principale è esterno-sinistro, come credi di aiutare la squadra? Sì, io mi metto a disposizione del mister, so che comunque quello è il mio ruolo, farò di tutto per mettere in difficoltà il mister e sono qui per aiutare la squadra. Grazie e buona fortuna. Grazie.